Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con ATG Marche, siamo in onda come di consueto anche sul nostro portale www.tvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook. Apriamo questa edizione del nostro notiziario partendo dalla cronac, parlando quindi di un incidente che si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15.30 a Morrovalle. Una coppia a bordo di una macchina ha improvvisamente perso il controllo della vettura che è uscita fuori strada e si è ribaltata fermandosi su una fiancata. Nell'incidente sono rimasti coinvolte un uomo e una donna di 44 anni, lei in particolare la più grave tra i due, è rimasta incastrata nella vettura ed è stata poi estratta dai vigili del fuoco e è fidata alle cure del 118 ma, viste le sue condizioni, si è poi deciso per il trasporto in Eliambulanza all'ospedale regionale di Torritti di Ancona. L'uomo invece meno grave è stato trasportato all'ospedale di Civitanova. Ancora da chiarire la dinamica che al vaglio delle forze dell'ordine, in particolare la polizia, anche sta presente sul luogo dell'incidente. Altro scontro, invece questo caso frontale tra due moto, si è verificato alla Dogana ad Ancona intorno alle 17, alla banchina Nazario Sauro nei pressi del checkpoint della Dogana vicino a Porta Pia. Non sono ancora chiare le cause del sinistro ma non è da escludere che il sentattenne possa aver avuto un malore mentre si trovava a bordo della sua moto. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dalla Croce Gialla, l'uomo è stato trasferito a Torrette per un trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti anche in questo caso per i rilievi di rito. Cambiamo pagina, nuova scossa di terremoto. Questo pomeriggio a Sarnano, in provincia di Macerata, intorno alle ore 13.48. Il sisma è stato di magnitudo 3.0 ed è stato avvertito distintamente in diversi comuni. Quindi fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Rimaniamo in tema sisma, in particolare di post-sisma e di ripartenza. A partire dalle aziende che hanno fatto innovazione nella zona del cratere. Di questo parlerà la Regione Marche che sarà presente al meeting di Rimini dal 18 al 24 agosto. Vediamo. C'è il post-sisma e la ripartenza delle aziende che hanno continuato a produrre e investire nella zona del cratere, innovando con il sostegno anche dei fondi dell'Unione Europea. Un totale di 248 milioni di euro di fondi FESR e 159 di fondi PSR. È lo scenario con cui la Regione Marche si prepara l'appuntamento post-ferragostano più atteso, il meeting per l'amicizia tra i popoli, quarantesima edizione, a Rimini dal 18 al 24 agosto. Diversi gli appuntamenti chiave, tra cui gli eventi del fuori padiglione, mercoledì 21 agosto e venerdì 23 agosto, ore 17, per citarne alcuni. Per raccontare come una Regione colpita dal sisma si è riuscita a ripensare un nuovo modello socio-economico con uno sguardo particolare rivolto all'innovazione. Le giornate saranno strutturate in questo modo. Il pomeriggio sarà dedicato ai sindaci, che racconteranno sia i problemi del proprio territorio, ma anche come grazie all'Europa le comunità siano riuscite a rinascere. E invece la mattina è dedicata alle imprese, soprattutto a quelle che ce l'hanno fatte, quelle che hanno vinto progetti molto ambiziosi, sempre chiaramente parlo di progettazione europea, e i temi scelti del padiglione sono due. Uno pensato proprio alle imprese e l'altro invece rivolto più all'aspetto sociale, economico, che tanto sta a cuore a questa giunta, che ha pensato proprio ad un bando, che era rivolto alle imprese sociali, per curare i servizi che vengono erogati alla popolazione, in particolar modo a quella più anziana. Quindi se l'anno scorso la Regione Marche era presente per la formazione e per l'orientamento professionale, quest'anno il tema è proprio quello del sisma. Il meeting, che arriva in un momento di forte crisi di governo e istituzionale, punta comunque a confermare le presenze attese. Nei numeri, 800.000 presenze da 70 nazioni nel 2018, e per l'edizione 2019 l'apertura con la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e poi i ministri Giovanni Tria, Economia, Enzo Moavero, Milanesi, Esteri, Giamarco Centinaio, Turismo, Marco Bussetti, Miur. E ancora David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, i leghisti Giorgetti e Romeo, Maria Stella Germini, Forza Italia, Paolo Lattanzio, Movimento 5 Stelle. Il titolo di questa edizione è «Nacque il tuo nome da ciò che fissavi». È una frase di Carlo Wojtyla, una poesia giovanile di Carlo Wojtyla, che ci invita proprio a guardare con attenzione la realtà, a imparare della realtà e a farsi condizionare da tutti gli stimoli che la realtà ci offre. Quindi il meeting è un luogo frequentato da diverse centinaia di migliaia di persone. Quest'anno abbiamo 200 incontri con 500 relatori, una ventina di mostri, una ventina di spettacoli ed è un luogo in cui lasciarsi direi proprio influenzare e creativamente proprio ispirare dalle suggestioni che ci vengono dalla realtà. Le Marche Prima Regione per la riduzione del credito alle imprese nel primo trimestre 2019. Questo l'allarme lanciato dal nuovo direttore di Unico, Paolo Mariani. Con un'economia che senta a ripartire, le Marche segnano il primato, tutt'altro che positivo, per la riduzione del credito alle imprese nel primo trimestre 2019. Questo è il bilancio tracciato da Paolo Mariani, neodirettore di Unico, i confidi delle Marche che sostituisce Luciano Goffi. Stando ai dati, il calo è stato del 3,1%, mentre in Italia si è realizzata una crescita dello 0,7%. Confidi è nato per far sì che si leggano meglio le imprese e che le si assista, proprio in momenti anche non facili e di difficoltà. Questo è il nostro scopo, questo ha voluto la Regione, questo hanno voluto le associazioni che con coraggio hanno dato vita a Confidi. Il mio obiettivo è far sì che questa realtà sia un'eccellenza e che in partnership con le banche aiuti l'economia a riprendersi. Da dove partirà? I punti sono una revisione organizzativa, una revisione del piano industriale, un rilancio dei prodotti e dei servizi e un grande rilancio anche della consulenza. L'imprenditore non si misura solo dalle dimensioni, il business che realizza non si misura solo dalle dimensioni e quindi è necessario capire che bisogna fare consulenza positiva anche alle microimprese. Le marche sono prime in Italia per piccole e medie imprese con meno di 20 addetti, solo il 98% del tessuto produttivo e contribuiscono al 58% dell'occupazione, ma sono destinatari solo del 20% dei prestiti bancari alle aziende non finanziarie. Stando agli ultimi dati, le piccole imprese marchigiane segnano un meno 3,8% per la riduzione del credito alla pari con quelle dell'Umbria. Una situazione che si fa ancora più drammatica se confrontata con il primo trimestre del 2018. Rispetto a un anno fa, il calo del credito alle aziende marchigiane è stato dell'11,6%, ma arriva all'11,9% per le piccole imprese. Alla fine di marzo, su 33,2 miliardi di prestiti in essere nelle marche, quelli e le aziende ammontavano a 18 miliardi, di cui 7,7 alle piccole imprese. Una situazione su cui c'è ancora molto da lavorare, specie per le PMI che risiedono nelle aree del sisma. Confidi ha strutturato dei servizi e dei monitoraggi proprio per dare credito a queste aree che devono continuare a ripartire ed investire soprattutto in tutto quello che riguarda il mondo dell'edilizia, in quei territori dove ha subito forti danni. E ora arriviamo al mezzo. Si prevedono temperature fino a 40 gradi per questo weekend nelle Marche con un'allerta arancione per le ondate di calore. Si prepara un weekend bollente per la regione Marche con temperature percepite fino a 40 gradi a causa della forte presenza di umidità nell'aria. Una situazione meteo che ha portato il centro funzionale della regione Marche a diramare un'allerta di livello 2 per le ondate di calore per sabato 10 e domenica 11 agosto. Tra le aree dove il caldo estivo si farà più intenso quelle dell'entroterra come Urbino, Fabriano, Fermo e Iesi. Le più colpite saranno però le province di Macerata e Ascoli Piceno dove all'ore 14 di sabato 10 si sfioreranno i 37 gradi con temperature percepite rispettivamente di 38 e 40 gradi. La situazione migliorerà seppur non di molto lungo le coste dove le temperature si aggireranno sui 32 gradi nella provincia d'Orica e sui 31 gradi appeso al San Benedetto sebbene i livelli percepiti saranno rispettivamente di 36 e 35 gradi. Per la giornata di domenica invece si registrerà in generale un calo delle temperature anche se l'allerta meteo resterà comunque di livello 2 con temperature che arriveranno fino a massimo di 38 gradi nelle aree interne. Ultimo weekend per il Macerata Opera Festival con le ultime repliche di Rigoletto e Carmen proprio l'opera di Giuseppe Verdi è stata la protagonista di un pomeriggio dedicato ai più piccoli. Un giullare, un duca birbante e una fanciulla innamorata la storia di Rigoletto raccontata ai più piccoli in un pomeriggio nel cortile di Palazzo Bonaccorsi l'incontro curato dalle associazioni CTR e amici dello Sferisterio come vedete è stato molto partecipato con i bambini molto coinvolti con la tragedia verdiana. Sono loro che effettivamente riescono a guardare senza filtro all'interno di quello che è proprio il significato dell'opera stessa del racconto, della musica e quindi ne apprezzano completamente la sua totalità. L'attività degli amici dello Sferisterio non è solo dedicata all'infanzia e quella del 2019 è stata una stagione molto intensa e ricca di soddisfazioni. A partire appunto da questi appuntamenti questo di stasera con Rigoletto è l'ultimo dei tre organizzati e le visite al backstage, l'organizzazione e la logistica per quanto riguarda l'evento dei Centocellos e comunque tutta quell'attività preparatoria nell'arco dell'anno che ci ha tenuto impegnati moltissimo quindi è stata di grande soddisfazione. Ma il termine della stagione è solo un altro punto di partenza infatti il Macerata Opera Festival ha già programmato il futuro per il 2020 il tema sarà Bianco Coraggio mentre il Trovatore, Tosca e Don Giovanni i titoli. Stiamo già organizzando quelle che saranno sia le attività per le scuole le attività per i nostri soci e soprattutto le attività per la città perché è vero che siamo un'associazione ma un'associazione che lavora ed è aperta alla città per cui non ci sono né limitazioni né filtri né altro anzi più è partecipata e più partecipati sono i nostri eventi ci fermiamo qui io vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri social e sul nostro sito vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci grazie